Questa faccenda è rimasta sepolta per 30 anni. Ero convinto che sarebbe sparito da solo. Non sarà facile affatto. Il governo americano, al cui servizio hai dedicato tutta la tua vita, ti ha voltato le spalle. In Afghanistan, durante l'invasione sovietica, lo chiamavano la bestia che divora tutto quanto. Io voglio capire come funziona il tuo mondo. Come riesci a orientarti. Come operi al suo interno. Stai andando in una direzione che non piacerà neanche a te. Tua figlia, ovunque l'abbiate nascosta, diventerà parte di questo. Mi servirò di lei per arrivare a te. Non hai la più pallida idea di quello che ho fatto, di chi ero. C'è un cattivo in ogni storia. L'unico che può interpretare quel ruolo è colui che non se ne rende con l'altro. Non è una persona da sottovalutare. Farà qualunque cosa per sopravvivere. Non c'è limite ai danni che farà o alle cose che distruggerà. Quello che sono bravo a fare è difendere le cose che vanno difese.